Ciao, sono Simone H. Salvatore del Spirito Affronta, mi trovo questa sera qui a Broadcast Italia per supportare le iniziative delle radio indipendenti, in questo caso Broadcast Italia, che è potente e che ancora riesce a dare spazio a tutti gli artisti che hanno qualcosa di importante da dire e qualcosa di importante da fare. La cosa principale che tengo a sottolineare è l'importanza di vestire indipendenti che da anni danno un carattere fondamentale, l'importanza di vestire indipendenti che danno forza, soprattutto gli artisti anche in questo caso, come noi, che non hanno i milioni, i miliardi di piedi, gli appoggi politici. Questa sera sono qua perché voglio presentare alcuni miei brani e il pensiero del Spirito Affronta, e lo faccio appunto grazie a Broadcast Italia. Grazie a tutti!